Il comune di Salerno ha ospitato il brindisi di fine anno. Per il sindaco Vincenzo Napoli l'incontro con la stampa è stato anche l'occasione per tracciare un bilancio degli ultimi 12 mesi, l'accoglienza dei migranti nel porto tornato luogo di sbarco, ma anche i fondi per cultura e musei e lo slancio sulla differenziata tra le priorità dell'azione di governo. Il 2022 è stato segnato anche dall'inchiesta della procura sugli appalti per la manutenzione, come ha ricordato il sindaco di Salerno. Noi dalla paralisi siamo usciti già da lungo tempo, se paralisi c'è stata recupereremo in tempi ragionevolmente brevi il tempo che abbiamo perso perché, come vi ho detto, abbiamo avuto una stasi dovuta ad un'azione giudiziaria che ha ritenuto di bloccare tutte le opere, tutte le azioni delle cooperative. La magistratura naturalmente è sovrana, ci mancherebbe altro, la magistratura va in nostro rispetto, però di fatto ha bloccato per un anno questa azione. Le grandi opere, come Aeroporto e Porto Ovest, si concluderanno non prima del 2024, ma i prossimi mesi si annunciano decisivi per altri cantieri fondamentali, come il ripascimento delle spiagge e il nuovo ospedale. Parte l'ambito 2, che tutti sanno essere quello che va da Pastenal alla fosse del Livno, parte l'ambito 4 che è in prova e in fase di progettazione e validazione dell'ambito 1, il Policlinico e oggi è stata affidata la direzione dei lavori. Ora direzione dei lavori, la settimana prossima il cantiere, l'opera, credo che nei prossimi mesi il cantiere apre.